cosa vuoi che facciamo voglio che sopravviviate non dureremo molto qui gli azzannatori arriveranno in branco riempiranno le fosse si arrampicheranno l'uno sull'altro saranno abbastanza da devastare il nostro accampamento o a farlo saranno delle persone non c'è niente tra noi e il resto del mondo e niente tra loro e noi se tu capisci che cosa si prova ad avere una figlia allora come puoi minacciare di uccidere quelle degli altri perché non sono le mie sono stato per la strada per un paio di mesi tutto solo dove vivevi prima in una cittadina c'erano anche mostri no era sicuro piena di brave persone cosa è successo lui era dal suo testo chi? l'uomo al comando sono vivo a malapena 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 Oh